Gian Piero, la partita è entrata nel vivo. Sai Alfonso, per vincere spesso conta il modulo della squadra. Quando sei costato a mettere tanti giocatori in campo, la cosa fondamentale è la mentalità con cui scende in campo. Io e tutti i miei compagni di squadra abbiamo un unico obiettivo, vari al centro. Beh, allora andiamoci a giocare. Ok, giochiamoci. Ma se mi lasciassero 30 secondi, perché non pare che potremmo dire? Perché mentre sto per rifare, scusate un attimo, perché non potresti fare? Sì, era male.